E' stato sfiduciato il sindaco di Agropoli, Adamo Coppola. Sei consiglieri di maggioranza e quattro di opposizione hanno fatto terminare l'amministrazione. I consiglieri che hanno firmato la sfiducia sono Mario Pesca, Gisella Botticchio, Agostino Abate, Pierino Marciano, Gennaro Russo, Franco Di Biasi, Franco Crispino, Massimo Laporta, Bruno Bufano e Giuseppe Di Filippo. Nelle prossime ore verrà nominato un commissario prefettizio. Grazie a tutti.